con l'amico professore Guglielmo Cevolin, docente all'Università di Udine, esperto in geopolitica, fondatore di storia in Friulenza Giulia, pro console di Limes per quanto riguarda il Triveneto. Perché? Oggi se ne è parlato perché c'è stato l'intervento dello stesso Putin, che ha detto che ha sottolineato il valore dell'uomo di Precozzi, però ha detto che ha avuto un destino fatale. Poi è dato colpa all'Occidente, ha detto che l'Occidente dice che siamo stati noi, sono stato io. Non è vero, è una falsità. Per la verità dico, lo schema hollywoodiano di questo aereo che esplode non è diciamo una conoscenza diretta di come l'Unione Sovietica prima e la Russia oggi eliminava o elimina gli avversari o incarcerandoli o avvelenandoli o addirittura uccidendoli con l'umbrello. Oggi è stata una scena, insomma, e forse questo anche per dare un segnale, diciamocela tutta. Attenzione, attenzione a quello che fate, o sbaglio? Ma intanto abbiamo visto tante possibilità di interpretazione. È stata citata ovviamente la esecuzione, il ruolo dei servizi segreti, ne hanno parlato i servizi del Regno Unito, ma anche forse qualcuno, poi nessuno ci ha creduto, che fosse stata l'Ucraina a riuscire a fare questa cosa qua. E infine una bomba, ecco, quindi insomma tante ipotesi. Quindi anche qui la verità. Anche, con una parentesi, un'ipotesi che dice che è tutto un blef perché poi un altro aereo della Wagner è arrivato a Mosca. Ma anche perché alcuni dicono è un'uscita di scena spettacolare di Prigozzi. Anche se, allora, intanto ci sono generali... Corpo riconosciuto, ma il DNA. Ecco, il DNA, ma poi... Beh, la Wagner però avrebbe detto che... No, no, la Wagner, no. Ha confermato tutto. Che sarebbe... Però, però, però... È morto il comandante, il vicecomandante, è morto, insomma, l'establishment. Ecco, tra l'altro lì io propendo più per l'interpretazione al momento dell'esecuzione perché è caduto anche il comandante militare della Wagner. Quindi due piccioni con una fava, purtroppo. E qui è la guerra che, vedete, il diritto, quindi l'insurrezione diventa esecuzione. Ma la mia domanda è molto semplice. Ma tutto questo andrà a indebolire il nuovo zar? No, beh, questa è la dimostrazione che chi si mette con i caromatici in marcia contro... Però sono tantissime le persone che vanno a portare fiori davanti alla Wagner, alle sedi della Wagner. Però la Wagner adesso verrà recuperata. Eh, no, perché ha firmato proprio oggi il decreto in cui devono... Giurare fedeltà allo Stato. Allo Stato. Eh, beh, perché hanno fatto la marcia verso Mosca. E quindi non saranno pagati. Così come sono pagati. Come erano pagati. Eh, ovvio, tutti i ragionamenti che facciamo... Mi scusi, eh. Che facciamo... Ce n'è qualcuno che andrà... Vengono inglobati nelle forze armate, quindi soldi... Qualcuno che andrà, diciamo, sicuramente a farsi pagare di più in altre compagnie di ventura, diciamo. Rimane in Dandia e Russia, perché... Ecco, tra l'altro... Di Lukashenko, anche qui c'è stato un po' un tradimento, perché Prigozni gli era stata assicurata la vita attraverso il patteggiamento di Lukashenko. Invece, mi sa, Marameo l'hanno tirato giù dalle spese, ecco. Quindi, cioè, non poteva accettare, lo Stato russo non poteva accettare che una compagnia di ventura gira i cararmati e si direziona contro due mesi fa. Quando l'hanno fatto, hanno, come dire, coperto la cosa anche con un accordo, eccetera, eccetera, e poi due mesi dopo è correderazione l'esecuzione. Tra l'altro è caduto anche il generale amico di Prigozni, quello dell'Arenautica, Sovroking, e poi anche un altro importante soggetto, sempre della Wagner, è stato tirato giù dalle spese. Quindi, praticamente, gli stanno tirando giù dalle spese i vertici tutti. E quindi è un'esecuzione questa. Siamo in guerra, hanno fatto un'insurrezione, ma non è che ci fa il processo quando si è in guerra, ma purtroppo si fanno l'esecuzione. Questo per dire anche sempre che la guerra è tremenda. Ma a me il fatto che è stato fatto fuori non mi dà nemmeno fastidio. Beh, non è che siano... Il personaggio è conoscendo, insomma, quello che hanno fatto, è quello che ha fatto, lui ha già fatto Galera, perché violentava le donne, insomma. Non è che siano stinchino. Sì, anche se hanno dato maggiori risultati alla Russia, ma per la crudeltà e per il mancato rispetto delle regole. Senta, per chiudere con lei, invece, perché qua tutti facciamo finta di non saper nulla, ma a me già mi dava fastidio la globalizzazione. Parlavo ai tempi che furono, dicevo, attenzione, la globalizzazione ci fa mettere a terra tutto. Non i sindacati mi davano contro, poi abbiamo visto che la globalizzazione ha messo a terra il nostro paese, dal punto di vista proprio della produzione rispetto anche ai paesi. Ma anche l'Occidente in generale, alla fine abbiamo avvantaggiato la Cina. E anche la multinazionalità che arriva, no? Oggi nasce, invece, un vero spettro terribile per l'Occidente, BRIC per il momento. Brasile, Russia, India e Cina. E ci sono già altri 40 paesi che vogliono entrare. 23 hanno fatto domanda. 23, ma si parla di 40-46 paesi. E non c'è mica tanto da ridere, sai? Ma diciamo, è l'anti... Da tutto di vista economico stiamo parlando. È l'anti G7, sì, ma è chiaro, è la collaborazione economica. Va bene, G7, G20 e gli altri non erano nessuno. Oggi hanno il 36%, 38% di forza lavorativa e di prodotti. Direttore, questa è la deglobalizzazione. Cioè, l'Occidente non è più visto come il faro al quale tutti i paesi devono orientarsi, ma adesso tutti i paesi, quelli del terzo mondo, via di sviluppo, eccetera, eccetera, preferiscono le due staffe. Però a rimetterci saranno sempre i paesi poveri e la povera gente, che saranno stretti tra due forze. Diciamo che vediamo se la deglobalizzazione significa Niger. Anche lì, vede, anche lì la situazione... Perché anche lì è una deglobalizzazione, cioè decolonizzazione dalla Francia. Ha detto basta, non possiamo andare dalla Francia. hanno fatto questo golpe, però, 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 non so se si va dalla padella nella braccia. Io ringrazio il professor Guglielmo Cevolin. Lì, mese di storia, vi ricordo il suo appuntamento domenica alle 19.